Andiamo a Roma Salve a tutti Avete presente quelle grandi discussioni profonde, filosofiche o cazzeggere che prendono piede in macchina durante i lunghi viaggi? Ho deciso di riprenderle e di farci un format on the road che prenderà piede su questo canale Sigla! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti